Ecco il cambio fuori Alessandro del Piero e allora adesso l'unica colonna sonora deve essere lo stadio Con i suoi gol che si è ritirato nel 2012 Prima di iniziare con il video però ragazzi mi raccomando lasciate un mi piace Cerchiamo di arrivare sotto questo video a non lo so 1500 mi piace per Alessandro del Piero Spolliciate e iscrivete al canale se ancora non l'avete fatto Consigliatemi inoltre qua sotto nei commenti a quali altri video dovremmo fare la reaction A quali altri giocate o giocatori dovremmo fare le reazioni Direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e andare dentro con il video Forza Alex La bandiera La bandiera della giugna Guardalo Qui era la Padova Ancora va la numero 6 all'inizio Ah Alex Del Piero Eh si lì c'era Marocchi Questo è il gol con la Fiorentina ragazzi miei Ragazzi miei quando segnò questo gol qua io Cazzo di gol che ha fatto Con l'esterno al volo E qui avanti via il tiro alla del Piero Questo era il tiro alla del Piero Il tiro a giro Tiro a giro alla Alex del Piero Caro Alex ti ho abbracciato anche E ho fatto la foto con te Nella finale del 96 Così del 97 Contro River Plate Sì Quando vincemmo la Coppa Intercontinentale Scani c'è la finale contro Borussia Che perdemmo Eh si Purtroppo si Contro l'Inter Via Guarda guarda Via Più veloce la luce Via Capivi niente E Alex Del Piero Con l'asso Uh qui mi ricordo Mamma mia Contro l'Udinese Fortunato? Sì Eh Questo infortuno qua lo condizionò per parecchio tempo Oh Mia E gol asso Guarda guarda che cazzo di Che squadra che c'era Zidane Zidane del Piero Già solamente loro due Guarda contro l'Udinese Il gol nell'anno in cui vincemmo uno scudetto a maggio Palle 5 maggio Noi vinciamo contro l'Udinese Invece 2-0 Questo qua è il gol Questo qua è il gol in semifinale di Ritorno Quando poi però abbiamo perso la finale contro il Milan nel 2003 Guarda che punizione contro l'Inter Questa qua Non la ricordo Nel 2005 Mi sembra 2004 2005 Questa mamma mia Serie finale Mondiale ragazzi Poi qua Serie B La Serie B Uno come Alex Del Piero È rimasto Guarda qua che cazzo Guarda che gol Guarda Faceva sti gol qua anche negli anni Non so Gli anni bui Gli anni bui 2007-2008 Questa qua anche Ecco qua È la standing ovation A Bernabeu Questa è la doppietta Uno E poi quello di punizione Eccolo qua Punizione Gol asso Ed esce Con la standing ovation Guardate Qua contro la Roma Ragazzi Adesso con tutto rispetto per Ronaldo Ma le punizioni Questo qua contro la Roma Al volo anche Questo qua mi sembra Non mi ricordo Questo qua è in Europa League In Europa League Ma guarda che tiri Che faceva Impressionante Guarda che botte Guarda Guarda Campione assoluto Qua invece Quando il primo anno Che poi è stato L'ultimo anno suo Sono gol contro la Roma Questo qua c'era Monello stadio Era semifinale Di Coppa Italia Contro il Milan Sì La punizione Che stava Che vale Lo scudetto Guarda uno scudetto Con Gigi Che esulta Perché ha beccato La schedina Sì Grande Ha beccato L'over 2 e mezzo L'over 2 e mezzo È l'ultimo anno Poi Giacco Giaccherini Marchesio No Un campione assoluto Alex Del Piero Un campione assoluto Non so Ma rendetevi conto Che ho i brividi Di avere queste azioni Questo è l'ultimo gol Di Alessandro Del Piero Alla Juventus Nell'ultima partita Di campionato Con lo scudetto Già vinto Un signore Vedi Nel giorno dell'addio Un signore Si è andato via Con lo scudetto Alzato Grande Un signore Assoluto Non come tanti altri Che parlano Parlano Chiacchiano E basta Finito il primo video Andiamo dentro Con l'ultimo Che dura poco Che sono i migliori Gol Di Alessandro Del Piero The best goal Of Alex Del Piero Yes Ma sono le uniche tre parole Che so di inglese Buonissimo E beh Quello è la maglia da Sony Il primo anno Mamma mia Che gol Questo qua Questa l'abbiamo visto Anche prima Coppa Italia L'ultimo anno Quando già era un vecchietto Tac Guarda guarda Li mandava al bar Con una finta di corpo E lui la mettia All'incrocio Guarda che roba Scravo il Borussia Dortmund Guarda dove li mette Con Napoli Guarda dove li mette Sempre lì Guarda guarda Trovava lo spazio Una punizione Ecco questo qua è l'ultimo Quello abbiamo appena visto Escalazione completa Anche questo Comunque Non è che è proprio Il Borussia Dortmund Con David Treseguet E via Che coppia Anche qua Mamma mia Guarda guarda Ma guarda Li mandava al bar Li mandava al bar Impressionante Guarda anche se qua con la Roma Al bar Li mandava Guarda guarda Si è vero Guarda questo qua Guarda questo qua Contro Real Madrid Mamma mia Via Impressionante In Champions League Contro Real Madrid A Mauri chi li fa il tacco Ed è pura poesia Questo qua contro il Milan Questo qua contro l'Inter Nel giorno più importante Nella notte più importante Alex Del Piero La cheat di Caressa Che fece in quel caso Questo qua contro il Bari Si contro il Bari Sì contro il Bari Al volo Lo so l'abbiamo visto prima Mamma mia Che roba Contro la Roma La coordinazione E la precisione Questo qua invece contro La Fiorentina Stavano a punizione 100 km Punizione come voleva Le metteva tanto In questo caso Gli anni bui In cui c'era Krasic Melberg Eccetera Però Però lui ci deliziava sempre Queste cose fantastiche Guarda che roba Adesso Va benissimo tutto Ragazzi Eccolo qua la punizione Io ho questa contro il Bernabéu Dicevi? Rispetto per tutti quanti i giocatori Soprattutto per grandissimi campioni Perché Cristiano Ronaldo È uno di quelli che ha vinto Il pallone d'oro Un miliardo di volte E quindi ci sta Ma voi avete notato Alex Del Piero Sui calci di punizione Guarda 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 questo Qua è con lo Zenith Mi ricordo Guarda qua Qua ha mandato al bar Non due a caso Uno di quelli Era ierro Non è che proprio Prendetevi conto Se ci fosse in questo momento qua In questi due anni Per dire Un giocatore come questo qui Che è Alex Del Piero Gol del genere Sarebbe Del Piero affiancato a Cristiano Ronaldo Mamma mia Sarebbe La produrre assoluta Del Piero affiancato a Cristiano Ronaldo Mamma mia Devono giocare Liberi Liberi Giocare Avanti Andare Giocate dove volete Andate e segnate Quindi ragazzi Per questo video Reazione alle migliori giocate Gol di Alessandro Del Piero È tutto Spero vi sia piaciuto Spero che vi abbiamo anche fatto un po' Ritornare in mente Alcune giocate Alcuni gol Di Alessandro Del Piero Che ha scritto la storia Della Juventus Papà più di me L'ha vissuta Perché ovviamente Io sono cresciuto Si è ritirato nel 2012 Quindi io Più o meno L'ho vissuto per 6-7 anni Quindi molti gol di queste cose Che ci sono stati Me li ricordo E li ho vissuti Però ovviamente Mai come papà Ha vissuto una leggenda Come Alessandro Del Piero E sono sicuro Che anche molti di voi Che ci seguite Ma molti di voi Che magari hanno 30-40-50 anni Si ricorderanno molto di meglio Di me Di molte giocate Del Pinto Ricchio Detto questo Ci becchiamo Prossimamente Con un nuovo video Sempre forza Juventus Fino alla fine Anche nei periodi più bui Ciao ragazzi Sempre Forza Juventus